Per noi è stata durissima nel senso che eravamo ridotti all'osso, abbiamo provato a tutti i costi a recuperare Marcello ma purtroppo la scavigliata di gara 1 era veramente una cosa seria, abbiamo rimesso in piedi Benzoni che ha dato tutto, alle guide ha dato tutto, tutto è andato tutto, tutti quelli che sono entrati, noi ci siamo logorati, ci siamo logorati alla lunga, alla fine la benzina è probabilmente finita, se avessimo avuto qualche minuto di riposo in più avremmo fatto delle scelte più giuste, forse sì, avremmo fatto un canestro in più, forse sì, non lo sappiamo, noi siamo sicuri di aver dato tutto e che per tutta la stagione niente è stato merito degli avversari, mai, noi abbiamo deciso sempre tutto, sempre tutto nel bene e nel male e questa è l'unica cosa di cui veramente siamo contenti. Loro ci hanno ammazzato a rimbalzo, a rimbalzo d'attacco 21 a 5, siamo stati devastati fisicamente, abbiamo fatto molta fatica, palle perse 23 a 19, anche loro ne hanno fatte tante, noi ne abbiamo fatte 4 in più di loro, è stato dimostrato che se noi facciamo così tante palle perse purtroppo le partite le perdiamo e anche di tanto. E spero anche sotto l'aspetto della categoria. Per quanto riguarda i ragazzi li voglio ringraziare tutti, sono stati una squadra veramente super, un gruppo bellissimo e spero che i giovani abbiano capito che possono stare in campo ad un certo livello, se si allenano in un certo modo e allo stesso modo i nostri senior che meritano di stare in campo ad un certo livello e che se si allenano ad un certo modo sono forti. Perché noi avevamo una squadra buona, probabilmente un outsider in po' che hanno creduto in noi, l'abbiamo portato ai playoff, abbiamo avuto mille infortuni, abbiamo avuto tutti il covid, noi abbiamo dato tutto e veramente alla fine posso solo dire grazie.